Secondo me è come se ci fosse stato un taglio, un divario, no? Perché a volte si sentono, non lo so, genitori che giudicano subito i docenti, ne parlano male. Allora, se ne parlano male quando sono piccoli, combinano un guaio enorme. Perché? Perché il minore, il bambino, fino diciamo ad una certa età, fin quando sono piccolini, la scuola primaria, uscito da casa, il bambino prima ha come figura affettiva che cosa? Il papà, la mamma e i nonni, no? Il nucleo familiare. Nel momento in cui entra a scuola, devi immaginare che quel bambino passa molte ore a scuola con quella figura di riferimento, che naturalmente diventa una figura affettiva. Se tu cominci a parlarne male e il bambino ascolta, non è che vuole dare torto a te o ragione all'altro, ma si crea un divario nell'affettività. È un divario nell'affettività, per cui questo divario nell'affettività genera, in genera, nel minore, che cosa? Quel senso di sfiducia nei confronti dell'adulto, di chi devo fidarmi? E il trovarti in mezzo ti può creare dei seri problemi, che se non saputi gestire, quindi dall'adulto, vale a dire dalla famiglia, e anche per esempio dal docente, che molte volte può venire anche a saperlo, perché magari è il bambino stesso che lo dice. Sì, esatto. Niente capita, no? Sono talmente spontanei che non ne hai l'idea. È lì che occorre quell'intelligenza e costruire. Perché si dice anche che quando si va a fare, a scindere, a giocare sull'affettività, si possono creare seri problemi, seri problemi. E guarda che poi ci sono trattati di studi, se tu vai a leggere un attimino, questo non lo dico io, no? Ma proprio personaggi che francamente lo sanno, ecco. Ecco perché è fondamentale. Ci sono insegnanti che hanno paura, per esempio, nel dire, guardi, nel riprendere un ragazzino, perché spesso puoi trovare anche quel genitore che il suo figlio ha sempre ragione. Di certo non gli fai del bene a quel ragazzo. Questo sicuramente, sì. È questo che non va.